buona a tutti oggi parliamo di un'altra carta sempre dal mio libro l'angelo custode edizione dei vecchi esattamente scusate la contrario questa questo libro intendo e la carta di cui parliamo oggi è la 32 dedicata alla gioia è chiaro che la gioia essendo uno stato emozionale non si può provare a comando o sento dentro di me una grande gioia o se no non posso fare niente apparentemente per alimentarla però guarda caso gli angeli ci stanno dicendo che è in arrivo la felicità ci stanno incoraggiando a aprire il cuore e prepararci per grandi o piccole gioie che possono arrivare quindi è un augurio ma essendo uno stato d'animo è un incoraggiamento a cambiare atteggiamento a muoversi in una direzione diversa a iniziare da noi stessi a sorridere a sorriderci a ringraziare l'universo per quello che abbiamo se questo video vi è piaciuto vi ricordo di mettere un like di iscrivervi al mio canale io faccio le premiere per cui sapete in anticipo che cosa sto pubblicando e ovviamente di mettere dei commenti e condividere con le persone che amano gli angeli vi auguro una giornata e un periodo pieno di gioia e pieno di felicità insieme ai vostri angeli tanto amore e tanta luce e al prossimo video ciao